Salve a tutti, nel mese della prevenzione del tumore al colon parleremo di questa patologia sotto un profilo un po' più particolare rispetto al solito. Parleremo di tumori del colon legati a sindrome ereditarie. Sicuramente l'ereditarietà rappresenta una delle cause di tumore al colon anche se è obiettivamente delle cause minoritarie. Nell'ambito delle varie sindrome che possono causare tumore al colon sicuramente la sindrome di Lynch è una sindrome genetica molto importante per questa patologia. È una sindrome che rappresenta, a seconda delle varie popolazioni, ha un'incidenza che varia da un individuo su 600 fino ad un individuo su 2000. Chiaramente è causa di diversi tumori, in particolare il tumore del colon e il tumore dell'endometrio. Nello specifico, per l'argomento che vogliamo affrontare oggi, conosciamo bene le conseguenze della sindrome di Lynch e dell'ereditarietà familiare sulla predisposizione al tumore del colon e per questo motivo nella nostra ULS9 una equipe multidisciplinare che comprende dal genetista al patologo al gastroenterologo e all'oncologo si occupano delle fasi di diagnosi, prevenzione, in particolare prevenzione perché è lì il punto in cui vogliamo intervenire e agire con più efficacia e quando serve anche di cura per questa sintoma ereditaria e per le patologie che essa può causare. Quindi soprattutto nell'abito della prevenzione un ruolo principale lo ricopre l'endoscopia e in particolare la coroscopia. Quindi di concerto la nostra equip consiglia agli individui portatori di sindrome di Lynch e chiaramente a tutti i loro familiari per i quali si conferma la presenza della mutazione genetica sicuramente una coroscopia che è ripetibile ogni 1-2 anni a seconda del riscontro di anomalie o olibi sospetti. Questa è la condotta che riguarda la patologia digerente legata alla sindrome di Lynch, l'attenzione ovviamente per questa sindrome riguarda tante altre patologie e qualora ci fosse interesse ad approfondire questo argomento o qualora ci fosse la necessità di chiedere ulteriori approfondimenti, i nostri specialisti sono a disposizione della popolazione per questo argomento e per altri correlati.